Amici di Radio Bruno, uno dei grandi protagonisti di questo festival, Joliet, ciao Emanuele! Ciao a tutti, bella! Allora, complimenti, perché sei arrivato dritto al cuore delle persone che ti ascoltano, ti seguono da casa, con questa lingua meravigliosa, il napoletano. Sono felice, alla fine questo era il mio obiettivo, diciamo, portare il napoletano e far arrivare il napoletano alle persone. Sono felice che ci sono riuscito in parte. Allora, mi raccontavano, mi ricordavano, lo staff qui di Radio Bruno, che all'inizio il festival di Sanremo era il festival della canzone napoletana. Esatto, è nato a Napoli, il primo festival, la prima puntata del festival è stata fatta a Napoli, poi si è trasferita al casino di Sanremo e poi è diventato il festival di Sanremo. Nel 2024 ci sei tu con questa bella canzone, mi vuoi aiutare tu nel titolo Ip Me Tu Pete? Perfetto, complimenti, veramente. Grazie. Hai avuto un endorsement pazzesco, cioè Barbara D'Urso si è messa lì, ha letto tutto il tuo testo, ha fatto la traduzione. Te l'aspettavi una cosa del genere? Ma in realtà è stato oltre quello che mi aspettavo, perché io volevo far cantare il napoletano all'Italia, però prima che la cantassi, è bella questa cosa, non solo lei poi, poi Barbara è anche in metà napoletana, se non mi sbaglio, quindi sono contento, è bello. Vogliamo spiegare agli amici a casa di Radio Bruno la canzone come è nata? Beh, è nata in studio, dopo che ci hanno detto che potevamo portare il napoletano all'Ariston, ci siamo messi in studio già gasati per questo, perché diciamo l'obiettivo che ci siamo posti era questo. Adesso, quando lavori con la tranquillità, ti viene bene, sempre. Noi non abbiamo pensato, ancora oggi non pensiamo alla classifica, al festival in sé, ma a quello che portiamo all'Ariston. Il pezzo è nato con Michelangelo, che poi ha messo le mani Debo e Di, Checco d'Alessio, Poison, la scrittura è con Antonalcio e Simonetta e io. Volevamo dare un messaggio, quando fai un pezzo non ci pensi, parti, scrivi e vai, poi dopo gli dai un messaggio. Vabbè, il pezzo parla, diciamo, di fare ipometto per te quando ce ne sta il bisogno, che è la dimostrazione d'amore più grande in una relazione. E niente, questo, ho spiegato tutto il pezzo in niente. E sei stato bravo, perché tanti non vogliono spiegare la canzone, invece, secondo me era necessario proprio anche per capire, no? Tutto quanto, però hai detto una cosa interessante, poi dopo tutto viene di conseguenza, stai vivendo, tra virgolette, con serenità questo Sanremo? No, mi sto divertendo, me lo sto godendo alla fine. E poi è bello, cioè, io ho 23 anni, quindi già sto in mezzo ad artisti grossi. È bello, sto imparando non so che cosa. Tipo? Tipo, tante cose, gestire la pressione, riuscire a parlare con, comunque, con l'ora e Dana Bertè, capito? Per me è bello, no? Ma anche per il mito, sai, per mia mamma non ho mai fatto niente. Cioè, prima di Sanremo non ho fatto niente, capito? Quindi quando mi ha visto, è uscito il video che parlavo con l'ora e Dana Bertè, con Fiorella, ha detto, ah, allora, sei un importante, ma. Grazie. Come si chiama la tua mamma? Maffaella. Succede sempre così, sai? E quindi lei ti ha mandato magari il primo messaggio dopo la tua prima esibizione più bello, o qual è stato quello più bello che hai ricevuto? Ma in realtà ho ricevuto tantissimi messaggi belli, anzi, solo messaggi belli, da tutti quanti, dalla squadra del Napoli, da Gigi, tutti, tutti. Sono felice, alla fine quello è più bello della classifica, il supporto che ti dà la gente che ti ama. L'abbiamo citato più volte, nella serata delle cove ci sarà un medley che si chiamerà Strade, insieme a te ci saranno, allora, Gue, Luque, e mi verrebbe da dire Gigi D'Ale, ma invece Gigi D'Alessio, giusto? Sì, sì, Gigi D'Alessio, sì, si chiama Strade, siamo veramente tre strade, anzi quattro. E sono le tre strade che io quando vado in studio faccio spesso, che è quella del rap, dell'attitudine di Gue, quella del rap d'amore di Luque e della melodia di Gigi. Che proprio, Gigi è molto presente nella cultura napoletana, anche Luca. Sono contento, speriamo che stasera va bene. Ah sì, ci sarà un'energia pazzesca, solo questi nomi sul palco, il tuo carisma, perché poi comunque ti trasformi lì, hai catalizzato tutti, ma comunque io non ci credo che non ti sia piaciuto questa cosa che da casa ti hanno stravotato. No, con me non mi è piaciuta, anzi. Perché hai detto io vado avanti, invece immagino che tu ti sia anche emozionato. È bellissimo, è bellissimo, solo che abbiamo segnato, quando segni devi ritornare al centrocampo, devi mettere prima la palla e devi battere, non è che è finita là. Però sono contento, alla fine io mi aspettavo che Napoli mi supportasse così tanto, diciamo, perché io sono una cosa che hanno creato loro alla fine, quindi loro la portano avanti, semplicemente. Hai battuto ogni record, telefonate, consensi anche su tutte le piattaforme, quindi incredibile. Quando eri piccolo vedevi Sanremo, una canzone che ti ricordi? Ma, Cenere, di Lazzar l'anno scorso, perché è stato importante per il mio cammino a Sanremo, perché ha aperto, ma non solo a me, penso a tutti quanti del mio genere, diciamo. Poi, vabbè, Massimo Ranieri, perdere l'amore, che io mi ricordo veramente che abbiamo festeggiato davanti alla televisione. Questa è qua, di più, di tutte. Insomma, hai citato dei pezzi molto, molto belli. Il classico di Ranieri, emozionante, è l'Azza che veramente ha fatto uno spartiacco, e grazie ad Amadeus. È vero, è vero. No, ma grazie ad Amadeus ci sono un sacco di ragazzi oggi che guardano Sanremo. Io ho tutti i ricordi che ho, ecco, la mia famiglia, di fianco, sai, a volte stavo a fianco a loro, anche un po', volevo vedere un'altra cosa, no? Però, diciamo, nella casa di un italiano, quando ci sta Sanremo, è Sanremo e basta, non ci stanno altri canali. E quello che ha portato Amadeus è questo, che i ragazzi adesso vanno a casa e vogliono guardare Sanremo, vogliono seguire il festival. Questo, secondo me, è un grande lavoro che ha fatto Amadeus. Una grandissima avventura, una grandissima vetrina a Sanremo. Per la serata di sabato, come ti stai preparando? Come la prima, semplicemente. E subito dopo Sanremo, che cosa succederà? Devo andare a Napoli, la prima cosa che devo fare. Anzi, forse se sono la sera, vado, ho finito, me ne scappo a piedi. Dipende da tanti fattori, eh? Perché se succede qualcosa, cioè, ci sono delle ospitate da fare. Vabbè, va bene, non si so. Si fanno volentieri. Eh, in quel caso. Grazie mille, veramente, veramente di cuore, generosissimo con noi, grazie. Grazie assai, grazie. Ciao.